Che bello l'amore ragazzi, mi sono innamorato di nuovo, ciao Nicole, di lui, di questo notebook, cioè guardate quanto è bello, sei bellissimo. Lui, questa sottiletta, è sottilissimo ragazzi, è l'Asus Zenbook 14X, un computer portatile che, attenzione, non mi è stato regalato da Asus o da qualsiasi altro negozio, ma che ho comprato per esigenze personali, per lavorare in mobilità, senza rinunciare alle prestazioni e anche al design. Sì, se mi seguite da un po' di tempo saprete che in passato ho provato diverse volte a farmi piacere i MacBook con M1, M2, quindi gli Air, i Pro, ma non ci sono riuscito. Ok, macchine fantastiche, con un'ottima autonomia, ma che per l'utilizzo personale, da sempre abituato all'ambiente, Windows, con tutti i suoi programmi, con, diciamo, tutte le sue possibilità di personalizzazione, per me non è stato mai un amore vero. Sinceramente, almeno inizialmente, non pensavo di portarvelo qui sul canale con una recensione completa, in quanto io non tratto principalmente computer portatili, ma, dato che questa macchina si è rivelata per me fondamentale e sorprendente durante il mio ultimo viaggio a Roma, vedrete il video tra pochi giorni e lo sarà anche nei miei prossimi viaggi e dato che dopo avervela mostrato su Instagram e su Facebook e avete chiesto in tantissimi di portarvelo sul canale, Beh, ragazzi, eccoci qui. Lui, per me, è diventato fondamentale. Nel titolo di questo video sicuramente avrete letto il miglior portatile del 2023 o qualcosa del genere, e ragazzi, per me è davvero così. Non so esagerando, per me è il miglior portatile come rapporto qualità-prezzo di questo 2023. Infatti, l'ho acquistato su Amazon tramite i link e il coupon che trovate nel mio canale Telegram, TakeBestDeals, linkato qui sotto in descrizione del video, vi invito ad entrare subito per non perdervi offerte su questo prodotto, tantissimi altri, buoni regalo, gift card, segnalazioni nuovi video e tantissimo altro, ragazzi, entrateci subito, c'è qui sotto il link. Comunque, l'ho pagato attorno agli 850 euro, e questo è il suo prezzo attuale, nel momento in cui vi sto parlando, quindi 19 febbraio alle 19.13. E per questo prezzo, ricordo che il suo prezzo originale di listino sul sito ufficiale è di 1300 euro circa, 1250-1300, ne vale davvero la pena. Vediamolo più nel dettaglio. Il suo principale punto di forza, lo state vedendo in queste immagini, è proprio lui. Il bellissimo display OLED, unico nel suo genere, è quasi uno smartphone gigante, è davvero, davvero bellissimo. 14 pollici di diagonale, la giusta dimensione, né troppo piccolo né troppo grande, perfetto per lavorare in giro e portarselo in viaggio, in risoluzione 2.8K HDR a 90 Hz. Il formato 16 decimi è ideale per la produttività e ci sono 550 nits di luminosità massima. Per farvi capire meglio, ragazzi, fino ad ora l'avete visto alla sua luminosità quasi minima, proviamo ora a spararlo alla massima luminosità e la mia fotocamera farà fatica ad adeguarsi a questo display che è luminosissimo, ma anche a luminosità massima, ha dei colori fantastici. Mi dispiace che non possiate apprezzarlo dal mio video. Comunque, si vede benissimo anche di giorno, ovviamente, all'aperto, sotto luce solare diretta, nonostante sia un display lucido che è molto elegante o che qualche riflesso però ci si riesce a passare sopra. È davvero una bellissima unità. Non ci sono assolutamente problemi di bleeding, ovvero quelle chiazze luminose giallastre presenti agli angoli dei normali display per portatili. La definizione è eccellente, contrasti e colori fantastici, ideale, perfetto per chi lavora di fino con montaggi video, come me, oppure editing fotografico. Asus, inoltre, mette a disposizione alcuni tool molto utili contro un eventuale burn-in del display AMOLED, ovvero quell'evenienza in cui l'immagine resta impressa sul display in modo permanente. È una problematica che si presenta anche sui normali smartphone AMOLED top di gamma, ma che fortunatamente è rarissima e che ad oggi, nel 2023, specialmente su un dispositivo premium come questo, è davvero quasi impossibile. E i suoi punti di forza surclassano notevolmente questo possibile problema che comunque passerebbe in garanzia. Pensate, ragazzi, che per il mio utilizzo lavorativo giornaliero superò senza problemi le 6 ore di utilizzo con schermo attivo, ed è tantissimo per un laptop con sistema operativo Windows 11. Ad esempio, ora abbiamo il monitor, il PC, acceso per questo video da quasi un'ora, ed ha consumato solo il 7%, con oltre 9 ore di carica residua stimata. È davvero uno dei portatili con più autonomia tra tutti quelli che ho provato negli anni. Anche dei MacBook. O comunque, se non supera i MacBook, ci si avvicina molto. E per una macchina Windows, lo ripeto, è tanta roba. Inoltre, come se questo non fosse abbastanza, si ricarica in pochi minuti con un semplice caricabatterie da smartphone, grazie alla sua ricarica veloce a 100 Watt, sfruttando le porte Type-C sul lato sinistro. Funzionano entrambe anche per la ricarica. Questo è il suo caricabatterie originale da 100 Watt, con il connettore USB Type-C, ovviamente, ma io non l'ho mai utilizzato, se non una volta per provare che funzionasse. Perché? Beh, perché per me, almeno per voi può essere diverso, è molto più comodo ricaricarlo con un semplice caricabatterie da cellulare. Ad esempio, utilizzo questo modello della Basius. Anche lui è da 100 Watt, ma è molto più compatto. Non ha il connettore da andare poi a connettere alla presa elettrica. È diretto, è molto veloce. Amici, trovo benissimo. Con un cavo adeguato lo ricaricate davvero in pochi minuti. Lo consiglio a tutti. C'è il suo link, come sempre, qui sotto, in descrizione di video, anche del cavo che utilizzo. Comunque, ragazzi, al versante connettività ci arriviamo tra qualche minuto, perché anche qui c'è qualcosina da dire e sono cose molto positive. Realizzato interamente in alluminio, con bellissimi effetti ottici. Guardate la parte superiore con questi cerchi concentrici. Quanto è bella, è davvero ben fatta. Ci sono delle finiture spazzolate che davvero adoro. Come design è davvero bellissimo. E non solo design, anche l'ingegnerizzazione. Spero si pronunci così con leggettimi se sbaglio, ragazzi. È davvero ottima. Guardate il display, che ovviamente si apre con una mano sola. Va a fare un effetto leva sulla tastiera, alzandola di quel centimetro, due centimetri, che migliora notevolmente il comfort alla scrittura. Geniale. Tastiera QWERTY completa italiana, acquistandolo da Amazon tramite i link qui sotto in descrizione dei video, nel mio canale Telegram. E anche il touchpad è enorme. Ma soffermiamoci sulla tastiera, ragazzi, perché occupa tutta la superficie utile offerta dal dispositivo. Quindi, davvero, un ottimo lavoro di Asus. Non fletta assolutamente, nemmeno nella parte centrale. Permette di scrivere per lunghi periodi senza nessun problema. E credetemi, io lo faccio, dato che ci lavoro, su Telegram, su Facebook, YouTube e tutto il resto. Ed è un'ottima tastiera. E anche il touchpad è davvero confortevole, anche se preferisco sempre il mouse. Però abbiamo, come se non bastasse, e l'avete già visto, persino il tastirino numerico tappando su questo tastino touch. È una grande figata, specialmente come impatto scenico. È anche comodo da utilizzare perché i tasti sono grossi. Avrei gradito magari un feedback tattile quando premiamo i tasti, magari una piccola vibrazione. Quindi, Asus, pensateci, perché potrebbe essere una bella aggiunta. E anche qui possiamo regolare il livello di luminosità. Versante hardware, invece, questa versione monta un'architettura AMD Ryzen 7 5800H potente e parca nei consumi molto ridotti grazie anche al display quadriubato da chip grafico AMD, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD super veloci. È tutta la potenza che serve per lavorare con qualsiasi software, qualsiasi programma, senza nessun tipo di rallentamento. Ragazzi, io ci sto montando persino il video che state guardando ora e se lo state vedendo, ci sono riuscito senza problemi. E anche con programmi di fotoritocco come Illuminar non ho nessun tipo di problema. E figuriamoci con la semplice navigazione web, Netflix, videochiamate, inconferenza e così via. Davvero super veloce. ero spaventato unicamente dagli 8 GB di memoria RAM, un po' pochini. Io sul mio computer principale, un laptop da gaming che ha 20 minuti di autonomia, o poco più, monto 32 GB di RAM, ma l'ottimizzazione di Asus è davvero ottima e si riescono a sfruttare questi 8 GB senza problemi con tutti i software che io utilizzo. Ma se volessi qualcosa in più da lui e magari sfruttarlo nei momenti di svago per giocare a qualcosina, si potrebbe fare? Beh ragazzi, la risposta la state vedendo in queste immagini ed è sì. Ovviamente non pensiate di poter giocare a titoli pesantissimi, a dettagli ultra super alti, ma ad esempio io ora sto giocando a World of Warcraft, uno dei miei MMORPG preferiti con dettagli grafici medio-alti e sono sui 60 fotogrammi al secondo stabili senza problemi. È davvero davvero un bel PC con un bel display. E potrei azzardare anche di più sfruttando quindi la sua risoluzione 2.8K, sfruttando la potenza aggiuntiva garantita dall'alimentazione perché sì, collegando l'alimentazione alla USB-C c'è un bel boost di potenza generale e potrei quindi spingere anche i dettagli un po' più in alto. Ma preferisco mantenerlo silenzioso come state sentendo ora perché ragazzi questo PC non fa davvero rumore nonostante qui al suo interno siano presenti non una ma ben due ventole molto progressive e silenziose ma che se spinte al limite si fanno un po' sentire. Lo ripeto, questa non è assolutamente una macchina da gaming, non acquistatelo se il vostro utilizzo primario è giocare alle massime prestazioni possibili ma può fare anche questo. Complice anche i bellissimi colori dei display che nei videogiochi, specialmente quelli molto colorati come quello che vi ho mostrato poco fa, danno una bella marcia in più. E avrete notato durante questa recensione anche l'ottimo impianto audio affidato ad Arman Kardon livello premium e la qualità è davvero molto alta. Specca solo nel volume massimo. Specialmente all'aperto avrei gradito due speaker leggermente più spinti, più potenti anche se c'è da dire, lo ripeto, che la loro qualità, specialmente per quanto riguarda i bassi e come ti avvolgono, ovviamente non posso mostrarvelo con un video ma fidatevi è così, è davvero ottima. C'è da dire che un altro dei suoi tanti punti di forza è la connettività ragazzi con cui è possibile sopperire anche a questo piccolo problema del volume massimo. In che modo? Qui dentro abbiamo il Bluetooth 5.0 con cui possiamo magari connettere uno speaker esterno molto più potente se magari dobbiamo riprodurre musica all'aperto possiamo connettere i nostri auricolari Bluetooth abbiamo il Wi-Fi 6 super veloce e che anche qui dentro in un bunker prende la Wi-Fi senza problemi e ci sono anche delle porte recentissime. Più nel dettaglio sono due porte USB 3.2 Gen 2 Type-C con supporto display e power delivery una porta USB 3.2 Gen 2 tipo A quindi tipo classico una porta HDMI 2.0 B jack 3.5 mm e persino un lettore di schede microSD utilissimo nei miei viaggi. Connettività ai massimi livelli trasferimento dati iperveloce e lo state vedendo in queste immagini tra l'altro ragazzi il mio SSD Lexar RGB è uno dei più veloci che potete trovare e acquistare su Amazon lo trovate linkato qui sotto in descrizione di video è una scheggia. Ricarica rapida 100 Watt su entrambe le porte Type-C insomma ragazzi cos'altro possiamo chiedere da un portatile da meno di 1000€ ci manca solo che faccia pure il caffè ah sì ovviamente per non farci mancare nulla c'è anche il lettore di impronte digitali che non si vede perché è integrato nel tastino di accensione questo portatile ha talmente tanta roba che al suo interno nonostante sia una sottiletta che me ne stavo dimenticando e tra le ultime cose troviamo una serie di microfoni con riduzione del rumore ambientale e una webcam HD più che discreta per videochiamate e conferenze è spesso un centimetro e mezzo il suo peso è di 1,4 kg quindi non è certamente il portatile più leggero della categoria ma restituisce un ottimo feedback tattile in mano alla vista è una sensazione premium da primo della classe vabbè se vogliamo trovare il pelo nell'uovo ragazzi diciamo che le ditate tendono a restare un po' troppo facilmente sulla parte superiore ma è davvero una sciocchezza per il resto ragazzi beh avrete sicuramente capito il motivo per cui mi sono innamorato tra l'altro guardate come veloce il lettore d'impronte dicevo il motivo per cui mi sono innamorato di questo Asus Zenbook 14X brillante e frizzante adatto per lavorare in mobilità con tantissima autonomia tutta la potenza che serve e anche per giochi chiare senza troppe pretese tra l'altro il display che avete visto si inclina di 180 gradi in questo modo rende molto comodo il suo utilizzo quando siamo a letto sdraiati con le ginocchia alzate o sul divano o in aereo o in altre posizioni strane è anche questa un'altra ottima idea di Asus che trovo sia uno dei pochi marchi uno dei pochi produttori di computer portatili o meno che cerca comunque sempre di innovare in qualche modo vuoi con il display AMOLED vuoi con il design vuoi per questo tastierino ci sono anche modelli con un vero e proprio display qui dentro recensì l'anno scorso anche un modello con il secondo display quindi diciamo che Asus dei dei ce li ha e questo modello nello specifico più di tutti gli altri che ho citato mi ha convinto perché è sì originale in molte funzioni in molte caratteristiche ma resta comunque perfettamente utilizzabile in qualsiasi ambito senza rinunciare alla classica esperienza Windows a cui siamo abituati quindi super promosso e mettiamolo da parte ragazzi per le conclusioni finali ovvero vi consiglio oppure no l'acquisto di questo Asus Zenbook 14X la risposta è scontata ed è sì se cercate un primo o anche un secondo come me laptop, portatile, notebook chiamatelo come volete per lavorare in giro per giochicchiare per fare praticamente tutto senza nessun problema spendendo meno di 1000€ quindi non dovendovi accontentare di qualche accrocchio cinese con Celeron con processori scrausi magari poco affidabili beh ecco in questo caso lui l'Asus Zenbook no lo riprendo in mano ragazzi perché è troppo bello dicevo lui questo Asus Zenbook 14X è la giusta scelta per qualsiasi esigenza vi ricordo che se volete acquistarlo trovate tutti i suoi link d'acquisto qui sotto in descrizione di video e soprattutto nel mio canale Telegram ufficiale TechBestDeals dove pubblico le sue offerte e infatti è proprio grazie al mio canale Telegram che in tanti di voi lo hanno già acquistato e mi hanno ringraziato in privato perché lo hanno trovato comunque un ottimo modello quindi ragazzi cosa aspettate? entrate subito su Telegram e se lui mi interessa acquistatelo perché il prezzo attuale aggiornato al 19 febbraio di 850 euro circa è davvero eccellente ma anche 1000 euro e poco più secondo me sarebbero un prezzo più che adeguato per questo portatile unico nel suo genere e spero vi sia piaciuto ragazzi e spero vi sia piaciuta anche questa recensione amici fatemi sapere ora voi cosa ne pensate lasciando un bel commento qui sotto dubbi o domande chiedete tutto quello che volete un bel like per supportarmi iscrivetevi al canale manca pochissimo ai 90.000 iscritti ragazzi io vi saluto e vi voglio bene ci vediamo appuntamento al mio prossimo video sempre come lo vogliate sempre qui su Addictus2Tech alla prossima ciao ragazzi grazie a tutti